Anama Confessercenti Provinciale insieme al Comune di Cosenza e il Polo Tecnico Scientifico Bruzio uniti per creare dei corsi di formazione per gli studenti dell'Istituto su come intraprendere la professione di agenti immobiliari. La giornata di oggi è estremamente importante perché segna l'inizio operativo di un percorso che ha visto protagonisti Confessercenti, il Polo, il Comune di Cosenza e all'interno di Confessercenti come attori principali proprio i colleghi di Anama che hanno creduto sin dall'inizio in questa iniziativa. Abbiamo organizzato con i responsabili degli incontri in presenza qui a scuola ma soprattutto presso i loro studi quindi i ragazzi usciranno dalla scuola e lavoreranno sia nel pomeriggio che durante le ore curriculari massimo di 40 ore diciamo totali e lavoreranno proprio toccando con mano quello che è questa nuova figura professionale dell'agente immobiliare. Questo progetto non darà solo uno sbocco lavorativo serio a tutti i ragazzi che parteciperanno ma darà lustro sia alla professione di agenda immobiliare che a quella del mediatore creditizio. Come amministrazione abbiamo ospitato in sala di rappresentanza sia la dirigente del Polo Bruzium sia i rappresentanti dell'Anama e della Confessercenti perché riteniamo assolutamente indispensabile e importante come amministrazione sostenere questo genere di iniziative.